Non lontano dal mondo in cui vivi, c'è una terra di fame e di sangue, di povertà e randaggi, c'è una terra di cani abbandonati, da uomini che abbandonano in realtà se stessi, c'è una terra molto più vicina a te, in cui la disperazione spinge gli uomini a pensare che rubare, delinquere, sia l'unico modo per sopravvivere e spesso davvero diventa l'unico modo. E' una terra dove si mischiano i poveri bianchi a quelli neri, a quelli gialli, a quelli rossi, verdi, blu. Si scrutano, si guardano negli occhi, perché vogliono capire se possono fidarsi gli uni degli altri. Spesso non si riconoscono, eppure, oltre ad essere entrambe poveri, sono uomini, donne e bambini, figli della stessa terra, dell'universo in parte, che li ha partoriti proprio lì, nello stesso luogo, ed insieme li vede soffrire, terra di uomini che si aggrappano alla vita con le unghie per sopravvivere. Non è giusto o sbagliato, se si agguardi o se si alladri, entrambe svolgono il proprio lavoro, legito o illegito, che all'essenza, consentitemi questa poetica licenza, si chiama ugualmente sopravvivenza. E se vedi un ladro che entra in una casa e la derubba, è vero, speri che non sia a casa tua la sua prossima tappa, ma ascoltami, non è questione di giusto o sbagliato, di bianco, di nero, di giallo, di rosso, di verde, di blu. Non possiamo giudicare, se continuiamo a restare chiusi, nel nostro mondo, lontano, ma vicino, a questa terra. Se non capiamo che l'altro esiste e l'altro ci piace o no, non è altro che una parte di noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.